Noi siamo quelli del salario minimo, ci batteremo perché ci sia una soglia di salario minimo, poi lavoriamo, decidiamo quanto e come, però non possiamo accettare che ci siano dei lavori retribuiti 2, 3, 4, 5 euro all'ora. Noi siamo quelli del cashback, avete visto, vi sono tornati dei soldini col cashback, vero? Ce l'hanno tolto, ma noi stiamo combattendo, ma perché? Perché stiamo combattendo? Pensateci voi, voi lo sapete, perché mi sono arrivati dei soldini in tasca, io lo so quanto più o meno è arrivato, a chi 100, a chi 200, qualcuno a 300. Allora noi eravamo in piena pandemia, pieno lockdown, tutti quanti ci siamo abituati a comprare, a fare acquisti online, vi ricordate? Qualcuno di voi l'avete sperimentato? Siamo chiusi in casa, ci arrivavano questi pacchi, siamo andati a ingrassare Amazon, Google, tutte queste multinazionali. Quando questi negozi qui hanno riaperto, il rischio è che nessuno ci ritornasse. Col cashback tutti siamo ritornati incentivati da questi guadagni, giusto? Quindi abbiamo dato impulso ai consumi. Ci siamo abituati a pagare con le carte.